La storia inizia, è giunto il tempo. Quando ho questa borsa, in un giardino come questo posso aprirla e far uscire una storia e regalarla a voi. Con questo mazzo di chiavi puoi aprire tutte le stanze del palazzo, ma attenzione, non entrare nella stanza il cui uscio si apre con la chiave d'oro, altrimenti patirai pene e sofferenze. Così consiglio di proseguire il cammino e di raggiungere la seconda sorella, la madre del vento selvaggio. Dette queste parole, batte per tre volte le mani e dall'alto del cammino, dove era appollaiato, scese un enorme uccello. Per raggiungere il palazzo tutto d'oro ci vorrebbero dieci anni di scondersi in esso e con questo travestimento raggiungere la stanza della principessa coraglina. Bambini, un doro per voi, il re li darà alla consegna del cervo d'oro che canta come uno signoro. Uomini, dalle bambini, un doro di loro, li darà dall'uncello che canta come uno signoro, uno signoro, uno signoro, uno signoro. Principessina, quando il cervo canterà, voi fingetevi addormentata e se qualcuno vi bacerà, voi trattenetelo. Il cultastorie vi saluta e vi augura buonanotte. Grazie. 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 Grazie.